ciao a tutti lei mi ama ancora chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda seguo il video nel frattempo iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo tramasco iscriviti al nuovo canale felicità benessere di questi posto il link descrizione mescoliamo le carte tagliamo giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere quattro casuali la carta 1 la carta 2 la carta 3 e la carta 4 allora concentrati concentrati su questa lei della cosa vuoi sapere sentiamo ancora poi anche sto per il video poi farlo partire dopo di che scegli la carta 1 la carta 2 la carta 3 la carta 4 per chi ha scelto la carta 1 diciamo che sì diciamo ci sono buone possibilità che sia ancora coinvolta con te che scelto la carta 2 assolutamente no rottura definitiva che scelto la carta 3 sì è ancora coinvolta con te e anzi vede la possibilità di costruire un'unione stabile solida con te che scelto la carta 4 anche qua è una persona che ha sperato di creare una coppia una relazione di coppia quindi qualche piccola modifica otterrai sicuramente ottimi risultati per questo video è tutto seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale felicità benessere di questo posto link descrizione ciao a tutti